La quarta rata aveva 27 obiettivi da raggiungere, il Governo ha il 17 di aprile inviato alla Commissione europea una proposta di modifica di alcuni di questi obiettivi. Complessivamente il lavoro di questi mesi ha comportato una proposta di modifica che riguarda 10 diversi interventi. I ministeri interessati sono diversi, li troverete nell'allegato sui 10 punti di dettaglio, sono il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero delle Imprese, il Ministero dell'Istruzione, della Cultura, la Presidenza del Consiglio, Dipartimento di Coesione, che riguardano diverse misure, alcuni ministeri hanno diverse misure. Con questa modifica il Governo ottiene un risultato molto importante perché chiaramente questo ci consente di poter mantenere fede al percorso stabilito. La quarta rata in questo modo può essere oggetto, dopo la condivisione formale da parte della Commissione europea, di una richiesta di pagamento che inoltreremo. Mi preme sottolineare che al momento tre Paesi hanno chiesto il pagamento della terza rata, Spagna, Italia e Grecia, nessun Paese ha chiesto il pagamento della quarta rata. Questo percorso ci consentirà nei prossimi giorni di poter chiedere il pagamento della quarta rata e questo percorso porterà ad una richiesta di finanziamento per l'intera rata. Anche questo mi piace sottolineare, non come magari è stato più volte detto, non correttamente, immaginando un definanziamento della rata.